Buonasera a tutti, ora Rocco vi farò vedere un tiro clamoroso Quanto è un tiro clamoroso? Toccherò la palla... Ma che cosa consiste? Eh, consiste nel colpire la palla numero 13 Aspetta che ci definiamo 13 porta a sfida Eh, lo so Non ce la farei mai La 13 che sarebbe la mezza arancione Senza toccare nella rosta e nella nera Non ce la farei mai Sono aperte le scommesse, stoppate il video Stoppate il video Pensate a come posso fare Scommettiamo quello che scrivete nei commenti Scommettiamo Stoppate A posto